Signore e signori benvenuti allo stadio pacifici di Sandona per il terzo turno del trofeo d'eccellenza 2013-2014 Sandonatese, Marco Frati muove l'ovale per l'ex Lucio Rodriguez, l'inserimento di Peter Pavanello a largo potrebbe inserirsi Simone Ragusi, così è prova Simone da solo, c'è il sostegno di Peter Pavanello messo giù molto bene da Jovo, il rumeno ancora altra fase, Rovigo, Ruffolo addomestica il pallone in maniera abbastanza difficile ma manteniamo l'ovale, siamo nei 5 veneziani, ancora Lucio Rodriguez per l'inserimento di Giovanni Kerk all'interno Jo, pesa sui piedi giù e c'è la meta di Giovanni Kerk al primo minuto di gioco prende la rincorsa, siamo nella linea dei 15, purtroppo la trasformazione è out adesso bisogna giocare all'ovale perché è finito il gioco, Rodriguez al piede per Giovanni Kerk attenzione i metodi pali, c'è un in avanti, si potrebbe incugnare Marco Frati, c'è la meta di Marco Frati meta di Marco Frati, bravissimo Marco Frati qui a crederci fino alla fine e vediamo se Simone Ragusi questa volta riesce a convertire il toccato del suo mediano di mischia e c'è, quindi uno su due per Simone Ragusi tomata nel ruolo di mediano di mischia, apri a largo, attenzione, attenzione il Sandonà con Iovu Iovu prova lui, prova lui, Rodriguez cerca di metterlo fuori, non ci riesce attenzione, pericoloso Sandonà in questa parte del match, stabilmente nei 22 trasmissione non buonissima, però ancora una volta, attenzione Florian a largo anche Flynn ancora più in largo, vediamo Flynn cosa fa su Balboni, c'è un mismatch evidente riesce a riciclare per Florian che va a segnare la meta del Sandonà prova, parte lui, sembra molto buona la trasformazione 12 a 7 Ragusi, Ragusi per Giovanni Kerk ha un buon sinistro Joe, però prova lui, pesa sui piedi, grande Joe andiamo a metri, messo giù da Iovu, nell'ultimo istante della soccorsa dopodiché ci sarebbe stata una prateria mani in rack non possibili, vantaggio Rovigo, Edo Ruffolo, alimenta bene andiamo con Renzo Balboni, abbiamo gli avanti a largo abbiamo ancora l'ovale per noi, ancora Lucio Rodriguez per Edo Lubian c'è Zamparo che riesce a placcarlo, però ancora in un'altra fase Simone Ragusi si inserisce, Ross McCann, Giovanni Kerk riesce a mantenere in maniera incredibile questo vale è sempre preso da una foga incredibile ancora scoppia però, ma incredibile l'errore di Bogiani per carità, Punga si ritorna, secondo l'abito blessano c'era un fuorigioco, per cui si ritorna in mezzo una trasformazione, i pali fanno parte del campo e tante volte bisogna essere lucidi nel seguire l'ovale così vediamo, Ross McCann segue immediatamente questo calcio ma non serve perché Simone Ragusi la mette dentro 15 a 7 partita bene Sandonai in questa seconda frazione di gioco a largo, Iovu Iovu per Flynn Samov quasi in avanti la trasmissione fra Taumata e Flynn, così non è, Rorato prova lui, l'istretto, è ottimo e c'è la meta parte del mediano d'apertura e centri i pali i pacchetti taloniamo la valle con Luke Maoni poi non esce velocemente, però eccolo qua Lucio Rodriguez, vediamo le opzioni è proprio Steve Mortolucci, dicevamo e trova un intervallo centrale l'abbiamo chiamata prima ed è la meta di Steven Bortolussi di portare a 21 lo score rosso-blu e così è Rorato mette dentro è buona la spinta di Sandonai Rodrigo cerca di spostarla il pallone nei piedi del numero 8 Vian attenzione Vian ci mettono le mani e c'è meta tecnica di Sandonai intanto Dotta porta altri punti intanto Guido Calabrese un'altra scena per lui Guido per dare un'ottima prova qui giro alla mischia attenzione parte Adoruffolo il sostegno di Guido Calabrese vediamo Guido lo scugnizzo va a alimentare per Lucio Rodriguez va Lucio, va Lucio, va Lucio, va Lucio la meta di Lucio Rodriguez non è facilissimo in questo calcio Simone si concentra prende la rincorsa prova Simone e palo palo peccato con Boggiani vorremmo vedere anche un po' Roan in questa fase di gioco che adesso va solo a pulire e Guido Calabrese calcia fuori e l'arbitro Blesano fischia la fine vince Rovigo qui a Sandonai per 27-21 con 4 metri grazie